La SICAM SPA è stata fondata nel 1973 e da allora ha sviluppato la sua attività nel campo della distribuzione dei tubi di acciaio, diventando uno dei principali canali distributivi, prima in Italia e poi come Bianco Group in Europa e in America. Le unità operative del Bianco Group sono dislocate strategicamente nell'ottica di servire i grandi mercati europei ed americani ed in questo ambito la SICAM riveste un ruolo primario sul mercato italiano. Risposte in tempo reale alle richieste dei clienti, consegne rapide e puntuali, qualità certificata dei servizi e dei prodotti sono la base. Oltre a ciò, la SICAM si propone e si impegna ad offrire un rapporto di collaborazione col cliente volto a dare una soluzione personalizzata ai problemi e alle necessità di ognuno. In particolare, dobbiamo offrire ai nostri clienti il miglior standard qualitativo esistente al giusto prezzo di mercato, unitamente al più alto livello di servizio possibile, inteso come gamma di prodotti disponibili, quantità di prodotti disponibili, tempi rapidi di preparazione dei materiali, consegne veloci ed attendibili e prestazioni a livello di eccellenza.